gentili telespettatori un benvenuto alla nuova puntata di vivitalia tv un appuntamento con i protagonisti della politica dell'economia della cronaca da gianfranco merlin e dal direttore del nord est quotidiano stefano elena oggi abbiamo un'intervista molto tecnica su l'inps la previdenza e tutti gli argomenti abbastanza specifici se abbiamo in collegamento con noi professore alberto brambilla già fondatore dell'istituto dell'istituto di ricerca itinerari previdenziali di milano nonché ex sottosegretario anche alla previdenza in uno dei primi governi berlusconi professor brambilla innanzitutto grazie di essere qua con noi con vivitalia tv le fatte io direi di iniziare con una domanda clu che al giorno d'oggi sono in tanti a porsi riusciremo noi cittadini che incominciamo andare in pensione con il sistema contributivo puro ad avere una pensione adeguata l'inps sarà in grado di pagarci le pensioni anche con i chiari di luna che ci sono in questi ultimi tempi di cui si parla sempre che c'è il deficit previdenziale e quant'altro e soprattutto poi le casse private che lì è un altro un altro regime un'altra un'altra voce riusciranno anche loro a stare a onorare i propri i propri contratti con i loro assistiti prego sì tanto buonasera a tutti allora per quanto riguarda il sistema pensionistico italiano è sicuramente un sistema che è solido regge e all'interno diciamo dell'unione europea è uno di quelli che si è dotato tra l'altro è stato il primo di due stabilizzatori automatici che sono quelli che in un sistema previdenziale lo tengono in equilibrio di fatto noi abbiamo l'aggancio della età di pensionamento all'aspettativa di vita e anche la parte relativa alla pensione quello che noi chiamiamo in gergo tecnico i coefficienti di trasformazione cioè quel numeretto che trasforma tutti i contributi versati in una vita di lavoro nella pensione ecco tutte e due sono come dire indicizzati adeguate all'aspettativa di vita per cui il sistema è molto stabile ovviamente risentirà nel corso del 2020 e del 2021 del calo di occupazione dovuto al covid speriamo che poi questa situazione si risolva presto siamo molto in ritardo sia sotto l'aspetto vaccinale ma soprattutto sotto l'aspetto dei test e quindi questo ha tenuto chiusa molto l'Italia e questo ha prodotto un livello di disoccupazione piuttosto elevato però noi immaginiamo che se le cose vanno meglio con questo nuovo governo il piano vaccini decolla entro il 2022 dovremmo recuperare quasi totalmente i livelli occupazionali e quindi per rispondere alla prima domanda possiamo dire che a parità diciamo di tassi di occupazione che per altri in Italia sono veramente molto bassi l'Inps è sostenibile e quindi chi va in pensione sicuramente può stare tranquillo sulla parte seconda quelli che hanno il metodo misto perché di fatto contributivi puri andranno in pensione dopo il 2035-2036 quindi invece quelli che alla data del primo di gennaio del 1996 non avevano 18 anni di contribuzione dall'1.1.96 la loro pensione è calcolata con il contributivo e quindi il contributivo di questi tempi è abbastanza un paracadute perché ricordiamoci sempre che il metodo retributivo calcola la pensione sugli ultimi 10-15 anni se gli ultimi 10-15 anni sono stati poco buoni e i primi invece erano molto buoni uno corre il rischio di avere versato tanto e prendere poco mentre il contributivo di fatto da una certa pensione ovviamente e concludiamo questo primo concetto il contributivo premia chi va dopo in pensione cioè chi va a 67 anni prende una pensione che è anche maggiore di quella che avrebbe preso con il retributivo certo chi va in pensione a 62 63 anni siccome anticipa la pensione di cinque anni non prende meno in totale ma prende una pensione più bassa che semplicemente perché la prende per cinque anni di più scusi una curiosità e l'aspettativa di vita adesso quant'è che ha quanti anni sono l'aspettativa di vita prima del covid era intorno agli 86 anni è rotti per le donne e 81 e mezzo quasi 82 per gli uomini bisogna tenere conto che quello che è successo in 103 mila decessi purtroppo il 95 e mezzo per cento di questi decessi è per persone che hanno più di 65 anni e quindi è chiaro che per l'aspettativa di vita del 2020 e probabilmente speriamo molto meno ovviamente per il 2021 ovviamente si ridurrà ma non sarà che si abbassa definitivamente nel senso che chi sta bene e ha superato il covid ha le stesse aspettative di vita di quelle che aveva prima del covid certamente questi centomila soggetti che ci hanno purtroppo lasciato abbassano la mediana e quindi è evidente che il metodo contributivo e quindi questi agganci all'aspettativa di vita sono inattivi per il 2021 e saranno probabilmente inattivi anche fino al 2023 insomma è l'unica cosa positiva che ha creato il covid però dal punto di vista diciamo del tasso di copertura delle pensioni rispetto al reddito mentre si lavora mentre si lavora il sistema diciamo contributivo ha un tasso di copertura minore di quello retributivo tant'è che adesso c'è stata la corsa ai sistemi di previdenza integrativa che non è che in italia abbiano ancora preso quel gran piede se non sbaglio allora come le dicevo voi dovete tirare una linea immaginaria perché molto immaginaria intorno ai 65 anni prima il metodo contributivo da prestazioni più basse perché non perché sia cattivo o penalizzante semplicemente perché considera il numero di anni di aspettativa di vita dopo i 65 quindi 66 67 il metodo di calcolo contributivo consente a quelli che andranno in pensione l'anno 21 di avere ovviamente chi ha fatto 38 anni di anzianità contributiva e ha almeno più di 65 anni di avere un tasso di sostituzione cioè il rapporto tra l'ultima retribuzione netta e la prima rata di pensione netta è importante è netto su netto quindi lo spendibile quello che interessa a chi prende la pensione intorno al 72 per cento 73 per cento per i lavoratori dipendenti e il 63 64 per gli autonomi quindi tutto sommato è uno dei tassi di sostituzione più elevati a livello europeo il che significa praticamente più elevati al mondo perché il sistema europeo è quello che paga di più rispetto al mondo anglosassone quindi inghilterra scozia stati uniti canada nuova zelanda australia ecco questo quindi diciamo che il grosso anche il giappone per esempio a tassi di sostituzione e più bassi età di pensionamento molto molto più alte quindi direi che è questo il problema vero in italia sono i redditi se io in giappone o il 50 per cento di tasso di sostituzione ma prendo 3000 euro di media vado in pensione con 1500 se in italia prendo il 70 per cento ma gli stipendi sono meno di 1500 è chiaro che devo vivere con meno di 1000 euro ecco perché è importante farsi una pensione complementare e purtroppo nel nostro paese questa non è molto sviluppata come giustamente diceva lei cosa si può fare per incentivare la parte diciamo i benefici fiscali che esistono oggi allora i benefici fiscali sono tra i più elevati che abbiamo in europa in più a partire dal 2015 2016 2017 abbiamo anche il cosiddetto welfare aziendale che peraltro mi risulta che nel triveneto è molto è molto è molto diffuso soprattutto nelle medie e nelle grandi aziende questo consente per esempio se la regola generale è che posso investire 5.164 euro in previdenza complementare se la mia azienda anche welfare aziendale magari ci posso investire altri 2000 euro in più perché è poco sviluppato uno perché c'è ancora l'idea vecchia con il retributivo che la pensione è l'80 85 per cento dell'ultimo reddito e va bene così e non è invece così e la seconda è perché manca molta informazione voi avete veneto welfare che fa una bella attività di formazione e di informazione ora se la gente sa che versando 5.164 euro e avendo un reddito insomma superiore lordo è superiore ai 45 mila euro il 40 per cento di questi soldi glieli paga lo stato quindi se verso 5 mila euro 2000 me li mette lo stato perché li tolgo dalle tasse e 3000 li metto io è evidente che la gente fa questo tipo di attività se poi sa che quando prenderà la pensione su questa parte di pensione integrativa sarà tassato soltanto tra il 9 e il 15 per cento e quindi ha un differenziale molto molto positivo basta fare quattro conti è evidente che tutti farebbero il problema è che c'è molta poca informazione soprattutto tra i giovani certo e c'è anche il problema che per chi fa chi versa nelle casse privatizzate del dell'adep quindi professionisti e o le categorie tipo in farmacisti gli infermieri stessi medici giornalisti architetti quant'altro vengono tassati due volte perché vengono tassati sia sul montante che viene diciamo a fruttare ogni anno sia anche sulla prestazione previdenziale il che va a incidere negativamente anche sulla montare definitivo delle pensioni il che abbastanza anche così poco 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 lecito da un certo punto di vista che è anche un unicum a livello internazionale se non sbaglio sì allora siccome quando mi ha fatto la prima domanda mi diceva ma queste casse sono sostenibili ecco ad eccezione dell'impg cioè della cassa dei giornalisti la nostra cassa defraudata però il pc però il pg1 non in c2 sia chiaro l'impg2 funziona a meraviglia perché è come la gestione separata presso l'inps e quindi essendo a contributivo a tutte le caratteristiche della sostenibilità professore non dia brutte notizie al nostro stefano elena tu in che cassa sei con l'impg2 il 2 ma allora sei fortunato sembrerebbe in teoria sembrerebbe il pg2 non si corre alcun rischio sull'impg1 che quella per i dipendenti dei giornali delle televisioni eccetera beh lì la riforma è partita tardi e oggi io credo che ci sia poco da fare nel senso che ormai da qualche anno il bilancio è insostenibile tolta l'impg2 tutte le altre casse stanno bene hanno dei grossi patrimoni e è vero cosa succede che a differenza dell'inps che non ha un patrimonio e non ha soldi in cassa la cassa dei farmacisti degli infermieri professionali dei consulenti del lavoro dei commercialisti degli avvocati hanno dei grossi patrimoni questi patrimoni rendono mi scusi sono anche patrimoni immobiliari devo dire che quando partirono erano prevalentemente investimenti in immobili e in valori postali oggi diciamo che la componente immobiliare è non prioritaria è la parte diciamo diciamo più piccola del patrimonio e soprattutto è stata molto rivisitata perché prima era eminentemente patrimonio immobiliare ad uso abitativo oggi invece è patrimonio immobiliare ad uso terziario terziario avanzato quindi anche la redditività è maggiore il punto è che non si riesce a far capire ai vari governi perché qui ce n'abbiamo quasi uno ogni anno due tre mesi noi abbiamo il nuovo governo da festeggiare quindi siamo un po' un paese un po' anomalo rispetto cioè se io mi guardo la merkel che è 18 anni che governa noi in questi 18 anni ci abbiamo messo almeno 15 governi quindi stavo per dirle 18 18 anni e 18 governi da questo punto di rischio un po meno e questo però denota il fatto che noi siamo messi male come produttività come tassi di occupazione perché è evidente che una instabilità politica così alta non consente io quando ho fatto il viceministro del lavoro è perché il ministero lo conoscevo molto bene perché c'ero già stato come presidente di un nucleo di valutazione della spesa e soprattutto avendo fatto la riforma Dini come consigliere del ministro Treu ma anche uno che lo conosce ci vogliono 5-6 mesi per cambiare le carte i timbri e tutte le varie cose per cui cioè vuol dire che un paese se cambia governo ogni 14-15 mesi per sei mesi è paralizzato poi lavora un pochettino e poi comincia ad entrare in crisi gli ultimi tre mesi non se ne fila nessuno e quindi è questo il problema detto questo eh sì però speriamo che finisca perché sennò addio giovani generazioni qui così continuiamo a accumulare debito detto questo dicevo tutti i governi tassano i proventi del patrimonio quindi la doppia tassazione è io ti tasso i proventi del tuo patrimonio immobiliare che poi concorreranno in piccola parte alla tua pensione e poi ti tasso la pensione io avendo scritto la legge sulla previdenza complementare ho fatto l'opposto quindi da noi i rendimenti sono tassati erano all'undici il governo Renzi e poi Gentiloni hanno portato al 20 però i rendimenti che sono tassati poi quando si trasformano in pensione diventano netti quindi non c'è una doppia tassazione mentre e poi come dicevo prima non c'è una tassazione ad aliquota marginale ma sulla previdenza complementare c'è l'imposta sostitutiva lei prende 100 euro ha versato per 30 anni su questi 100 euro paga il 9 per cento di imposta a titolo definitivo che non va in capo altri redditi e quindi non aumenta l'imposta purtroppo nella pensione obbligatoria delle casse come diceva lei vengono tassati i rendimenti i rendimenti compongono una parte della pensione poi la pensione viene tassata ad aliquota marginale quindi insomma si potrebbe fare di meglio certo adesso una pausa per la regia per un break Presidente Brambilla c'è sempre il problema di dire l'assistenza separata dalla previdenza come stanno adesso le cose? Allora in realtà spesso si dice che l'Italia spende tantissimo in pensioni e questo è un problema e peraltro la sua domanda mi dà il là per dire che l'anno scorso l'Istat ha comunicato all'Europa a Eurostat che noi per le pensioni spendiamo il 16.3 per cento del PIL che siamo in linea con la media europea anzi forse anche più bassa della media mentre la media europea è il 12.2 per cento questa comunicazione fu fatta anche nel 2011 e l'Europa quando entrò in carica il governo Monti la prima cosa che disse fu siccome voi spendete quattro punti in più di pensioni rispetto alla media europea dovete fare la riforma delle pensioni e da lì nacque la riforma lacrime e sangue riforma Fornero adesso noi corriamo un rischio perché? Perché nelle condizionalità che ci verranno poste dall'Europa quando noi entro il 15 di aprile presenteremo il cosiddetto recovery plan il next generation EU l'Europa dovrà provare il progetto e dirci anche quali sono le riforme che sostanziano questo progetto cioè io ti do i soldi ma tu devi ammodernare il paese ecco il rischio che io ho fatto presente con un paio di articoli su appunto due quotidiani è che questa comunicazione vada a falsare è vera? No perché noi come spesa pensionistica come diceva lei siamo perfettamente allineati alla media europea noi spendiamo il 12.6 per cento contro il 12.2 ma per esempio la Germania non tassa non ci sono le tasse sulle pensioni ogni pensionato paga un 1,5-2 per cento di ritenuta e finisce così noi sui 230 miliardi di spesa pensionistica paghiamo 54 miliardi di IRPF quindi la spesa vera quella che tira fuori di tasca sua lo Stato non è quella sono 157 miliardi di spesa vera contro 190 di contributi quindi quando lei mi chiedeva ma il sistema regge? Certo che regge perché il sistema italiano in questo momento ha il netto delle tasse lo Stato paga molto meno di quello che incassa come contributi tutti gli anni solo che cosa fanno? Ci mettono la spesa pensionistica più le tasse più ci cacciano dentro all'incirca 100 miliardi di assistenza cioè tutte le varie pensioni sociali, gli assegni sociali, le pensioni di invalidità, le indennità di accompagnamento la social card, la quattordicesima mensilità si è dimenticato il reddito di cittadinanza però da questo cosa? c'è dentro anche il reddito di cittadinanza in questo calderone dentro dell'assistenzialismo se non sbaglio non è dentro in questa quota perché il reddito di cittadinanza è stato imputato all'assistenza quindi non rientra in quel novero di cose che le dico. Certo poi alla fine della spesa anche il reddito di cittadinanza che assieme alle pensioni di cittadinanza perché ci sono pure quelle che vanno nel sistema pensionistico in due anni ci abbiamo speso quasi 13 miliardi quindi non è che abbiamo fatto poca diffusione. Il problema vero quindi non sono le pensioni e quindi io mi aspetto che le parti sociali che conoscono il problema si facciano proattivi perché è evidente che dobbiamo separare l'assistenza alla previdenza non perché spendiamo meno perché poi la somma è sempre quella ma dividere l'assistenza alla previdenza significa mettere al sicuro il sistema previdenziale evitare che ci siano sconsiderate riforme che non servono mentre tutti gli sforzi del governo debbono essere concentrati sull'assistenza e qui vi do un dato. La spesa assistenziale quindi a carico della fiscalità generale perché non è che sull'assistenza pagano i contributi. La spesa noi nel 2008 spendevamo 73 miliardi nel 2019 questa spesa per tutte le campagne elettorali che ci sono state quindi ogni campagna elettorale uno promette la quattordicesima mensilità l'aumento della pensione sociale l'assegno cioè quota 100 quota 200 quota 300 quota 100 tutto quanto cioè tutti i partiti e qui non è che ci sia uno che si salva più dell'altro a me spiace che chi dovrebbe essere davvero liberale quando fa campagna elettorale sborda da tutte le parti e quindi siamo arrivati a 114 miliardi 41 miliardi strutturali in più il 50 per cento della spesa precedente in più praticamente. Esatto che sono prevalentemente a debito e quindi a carico delle giovani generazioni cioè questi politici qui alla mattina ci fanno il sermone che dobbiamo salvaguardare i giovani il futuro salvaguardare il paese l'autonomia economica poi sono i primi che li fottono. Il pomeriggio fanno i debiti e un paese indebitato come il nostro ma è normale no? Una famiglia che ha debiti ha meno libertà economiche è evidente perché è sotto pressione un paese che ha così tanto debito come il nostro perderà le libertà economiche quindi noi stiamo a furia di ristorare le persone stiamo incrementando il debito che vuol dire portare via alle giovani generazioni la loro futura libertà economica però uno dice vabbè se come dicono i 5 stelle abbiamo abolito la povertà gli facciamo siamo anche contenti ecco i risultati purtroppo sono drammatici l'istat ci dice che nel lontano 1900 nel lontano 2008 ve lo leggo perché è così non proprio lontanissimo solamente 12 anni fa da questo certo nel 2008 quelli che erano in povertà assoluta erano 2 milioni 113 mila italiani nel 2019 dopo che ci abbiamo messo 41 miliardi in più uno dice beh saranno un milione no avremo risolto sono aumentati invece no sono 5 milioni e mezzo raddoppiati più di raddoppiati quindi quell'impovertà relativa che arrivano a malapena la terza settimana e mezza erano 6 milioni e mezzo nel 2008 e sono più di 9 milioni nel 2019 allora quello che io cerco di dire tutti gli anni quando faccio il rapporto al governo che c'è è se qualsiasi imprenditore investe dei quattrini e il risultato è che anziché aumentare le vendite i ricavi e anche il profitto lo dimezza che in quel costo che non va c'è qualcosa che non va ecco allora di combina dura minga dura minga quindi quello che deve essere chiaro è attenzione perché se noi continuiamo a fare assistenza perdiamo anche come tasso di occupazione perché moltissimi dicono ma perché devo andare a bottega tutti i giorni per prendere 800 900 euro tassati quando devo stare in poltrona ecco sì attenzione però dopo questi qua fanno anche lavoro nero perché nelle cronache è pieno le cronache di questo certo poi vi fanno anche concorrenza sleale quindi questa gente qui fa concorrenza l'imbianchino che fa la fattura perché questo qui non può essere non può farla perché se la fa perde il reddito di cittadinanza perde gli ammortizzatori sociali perde la cassa integrazione perde gli aiuti e la stessa cosa vale per alcuni pensionati assistiti perché un pensionato che ha la sua pensione normale se fa un altro lavoro la mette in capo i redditi e non ha nessuna perdita una volta c'era il divieto di cumulo tra la pensione e il reddito da lavoro io nel 2010 l'ho abolito quindi oggi uno che lavora certo paga le tasse su quello che ha fatto però voglio dire non ha perdite sulla pensione ma ma anche fa anche concorrenza sleale perché lui parte da una base garantita che è della pensione e invece il lavoratore autonomo non lo può fare perché deve correre per guadagnarsi per arrivare alla base che l'altro c'è la pensione e quindi c'è una forma c'è una forma di concorrenza sleale da questo punto di vista anche se ne devo dire che in italia quei pensionati che lavorano sono a secondo degli anni tra i 600 e gli 800 mila con le imposte che pagano automaticamente si autopagano la loro pensione quindi noi diciamo spesso magari avessimo non un milione ma quattro milioni di pensionati che lavorano perché vorrebbe dire che possiamo abbassare le tasse a tutti perché questi qui se si autopagano automaticamente poi devo dire che sì possono fare qualche prezzo in meno ma le materie prime sono quelle che paga sia chi è pensionato sia quell'altro al massimo può chiedere qualche cosa in meno ma io non penso che un pensionato vada a lavorare per molto ma molto ma molto meno di un lavoratore autonomo anche perché poi su quel lavoro lì e ci paga i contributi e ci paga le tasse e quindi diciamo che sono messi sullo stesso piano. Professor Brambilla come se ne esce per poter aggiustare un po' il sistema perché adesso alla fine di quest'anno avremo anche il ritorno dello scalone quindi quota 100 va in esaurimento e ci sarà un 5 anni di aumento automatico dell'età pensionistica quindi si passa da 62 di nuovo a 67 anni. Lei come la vede la questione? Già vi posso dire che non sarà così nel senso che ormai si sta esaminando una proposta che mi sembra ormai un po' più che una proposta e che prevede a partire dall'1.1 del 2022 che ci sarà una flessibilità in uscita con 64 anni di età e 38 di contributi di fatto sempre adeguati all'aspettativa di vita quindi una quota 102 quindi si potrà andare in pensione e quindi lo scalone sarà un po' meno di due anni e quindi noi avremo la flessibilità in uscita e come per i giovani avremo una equiparazione delle regole e anche quindi della integrazione al minimo nel caso in cui alcuni giovani non arrivassero alla pensione minima che oggi i giovani non hanno perché i contributivi non hanno questa integrazione al minimo e questi benefici perché non sono stati previsti né nella riforma Dini né nella riforma Fornero verrà introdotto la diciamo l'integrazione al minimo anche per i giovani in modo tale che tutti hanno le medesime regole e sono equiparati peraltro i giovani la riforma Fornero ha previsto che possono andare in pensione a 64 anni ma debbono avere una pensione pari a 2,8 volte l'assegno sociale cioè 1300 euro e quindi è chiaro che tutta la fascia grossa dei lavoratori che prende stipendi fino a 1.500, 1.800, 2.000 euro non ci potrà andare quindi è una riforma solidaristica al contrario cioè quelli che fanno i lavori che prendono tanto possono andare in pensione prima quelli che prendono poco e che normalmente fanno anche lavori più duri devono andare in pensione dopo ecco si sta ragionando su questa equiparazione e questa flessibilità per cui non ci sarà lo scalone dei cinque anni e mezzo e quindi io penso che quota 100 verrà piano piano dimenticata anche se devo dire che non c'è stato l'assalto quota 100 era previsto è stata molto inferiore rispetto alle tese siamo a meno di 300.000 rispetto al milione previsto anche perché anche perché le penalizzazioni previste per tutta la vita pensionistica erano abbastanza sensibili quindi uno ha detto non mi vale la pena sto lì a lavorare lo stesso quei altri 3-4 anni e tanti saluti professor Brambilla l'ultima siamo sul finale ormai perché abbiamo già sforato allora io faccio due domandine veloci 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 molto pratica allora io ho un figlio di 24 anni ha già iniziato a lavorare come informatico da un anno con il contratto dei metalmeccanici io questo figlio cosa cosa mi consiglia di dirgli c'è un ottimo fondo che si chiama cometa e un'ottima ma fa pubblicità allora no è un fondo intercategoriale quindi lei mi ha detto meccanici quindi i meccanici metalmeccanici hanno il più grosso fondo pensione italiano che è cometa e uno dei più grossi fondi di assistenza sanitaria integrativa che è metasalute quindi il mio consiglio è lo faccia iscrivere perché verso il TFR ha un trattamento fiscale molto migliore e soprattutto c'è un 2% che il datore di lavoro oggi non gli dà e che se invece si iscrive al fondo pensione il datore di lavoro gli dà e quindi è come farsi un aumento tra il 2 e il 3% professore faccio tesoro però un'altra domandina e i pensionati che vanno in portogallo lei come li giudica sono poco patriotici o hanno ragione secondo lei no io non mi permetto di giudicare chi fa queste scelte diciamo che sono dal punto di vista meramente economico quindi della differenziale di tassazione sulla stragrande sul 70 per cento delle pensioni è una fuga pressoché inutile perché se mettiamo tutti i costi accessori alla fine la gente sta ritornando infatti abbiamo siamo arrivati a circa 33 mila espatriati e adesso questo numero sta decrescendo anche perché il portogallo per i nuovi non applica più il regime dell'esenzione totale quindi va bene per chi c'ha 20 mila euro di pensione all'anno qui ne lascerebbe giù 10 mila quindi se la c'ha 2 mila euro di costi in più per l'affitto la casa eccetera ci sta dentro ma uno che prende fino a 2 mila euro di pensione gli conviene un'ultima domanda professor brambilla a un giovane che sta iniziando l'università lei cosa consiglia di andare a fare qualche lavoretto per in modo tale che incomincia a costruirsi un castello previdenziale e la stessa cosa a un genitore potrebbe essere interessante iniziare a fare una pensione integrativa già dall'intera età anche per fruire degli sconti fiscali allora partiamo da questo il fondo pensione costruito come un vecchio libretto di risparmio dove il genitore può versare anche quando nasce per dire il bambino e poi può prelevare quando ne ha bisogno per esempio deve andare all'estero per fare un approfondimento linguistico può prelevare il 30 per cento di quello che ha versato lo usa quando lo riversa recupera tutte le tasse che ha pagato per cui sicuramente è un libretto di risparmio che prima ancora della pensione diciamo che segue tutta la vita del giovane perché poi può prelevare per motivi di salute per sé per la famiglia ma anche per l'acquisto della prima casa per la ristrutturazione per comperarsi le attrezzature per una nuova professione e quindi può prelevare e poi rimettere questi soldi quando può e quindi recupera queste imposte e quindi è sicuramente il consiglio prima lo fate meglio è una volta si andava alle casse di risparmio a fare il libretto di risparmio oggi c'è questo qui quindi sicuramente è una opzione conveniente per cui se poi il genitore che ha una liquota magari fiscale piuttosto alta può versare per conto del figlio beh gli mette magari ha una liquota marginale del 43 per cento più le addizionali regionali e comunali e versa per il figlio beh diciamo che il 45 per cento glielo ritorna allo stato anche perché anche perché la quota che paga per il figlio lui la deduce integralmente affiancandola a quella che può pagare per se stesso da questo punto di vista sempre nel limite dei 5.164 euro di famiglia o pro capite se non sbaglio è per colui che versa quindi io che verso se ho un mio fondo pensione per me e uno per mia moglie o per mio figlio a carico in totale non posso versare più di 5.100 a meno che ho welfare aziendale e allora in questo caso se welfare aziendale mi dà come premio di produzione 3.000 euro questi 3.000 li posso distribuire e per un giovane che inizia che studia ancora che fa l'università gli conviene iniziare a lavorare presto per potersi costruire già una pensione ordinaria da questo punto di vista? Gli conviene prima di tutto fare un po' di lavoretti perché quando presenterà il curriculum per andare a fare il colloquio quelli che fanno i lavoretti all'interno del percorso universitario sono normalmente quelli che vengono prescelti quindi quelli che hanno un'appetibilità maggiore perché si vede che hanno buona volontà quindi prima gli serve per il curriculum e poi gli serve anche per la pensione questo confermo perché sono stato imprenditore guardavo anch'io quello che c'era dietro se uno ha voglia di lavorare si vede fin dall'inizio bene, siamo giunti anche alla fine di questa puntata ringraziamo il professor Brambilla per le sue chiarimenti per la sua capacità di spiegare una materia sicuramente esatto, abbiamo mirato la sua chiarezza naturalmente lei si candida per un'ulteriore puntata prossimamente quando ci saranno qualche ulteriore novità da specificare ai nostri ascoltatori mi sembra che il professore però ha pubblicato un libro certo, qual è il suo libro? il titolo del libro professore? perché vuole sapere scomode verità sulle pensioni, sul fisco e sul lavoro e quindi è un po' un libro che va un po' controcorrente e dice un po' le cose che ci siamo detti quindi parla della povertà, parla delle pensioni, parla del fisco, parla del debito pubblico e quindi dice esattamente come stanno le cose o perlomeno le dice sotto un'ottica che non è il pensiero comune e quindi aiuta in un certo senso le persone a ragionare poi si può essere d'accordo e non d'accordo come per qualsiasi altra cosa però è evidente che è un punto di vista tutto supportato però da numeri, tabelle e studi e poi c'è sempre anche itinerari previdenziali che è una bellissima pagina digitale del web dove ci sono tanti piccoli approfondimenti anche molto pratici da questo punto ecco la nostra regia ha già messo dietro le nostre spalle ha già pubblicato il tutto, gli indirizzi e i link ringraziamo di nuovo il professore, molto gentile alla prossima puntata, un saluto da Stefano Elena grazie a voi, grazie a Franco Mervin arrivederci arrivederci grazie a tutti